Ci sono tanti momenti da ricordare all'interno di One Piece e sono sicuro che se chiedessi a ognuno di voi di dirmi qual è il vostro momento preferito, ognuno di noi avrebbe un momento preferito totalmente diverso, ma se chiedessi a tutti di stilare quantomeno una top ten dei dieci momenti più incredibili, giganteschi, forse iconici di One Piece, sono sicuro che nella classifica di tutti noi avremmo un punto condiviso ed è il momento in cui Rufy si prepara e patapum scaglia il pugno contro il drago celeste perché rappresenta sul serio non solo un momento di liberazione per il lettore oltre che per il protagonista, ma è davvero il momento in cui tutto quello che stavamo vedendo all'arcipelago Sabaudi crolla, letteralmente dando il via anche alla parte conclusiva, diciamo così, all'inizio della fine della prima parte del mondo di One Piece. Io ho sempre trovato Sabaudi una delle saghe più incredibili, mini micro saghe più incredibili di One Piece e ricordo benissimo che letta a capitoli settimanali nel 2008, vi so anche dire quando, mi fece letteralmente sciogliere in brodo di giuggiole, addirittura, e questo è un piccolo pensiero, è un piccolo ricordo sulle ali dell'entusiasmo mio, quando andai in vacanza nell'agosto del 2008, andai a Berlino, ci passai anche due settimane, dovevo andare a un internet caffè perché quando usciva il capitolo me lo dovevo leggere e si era davvero nel pieno della battaglia tra i pacifisti, tra le super nove e tutta questa gente qua. Eppure di quelle settimane davvero il momento di spartiacque, ciò che divide in due metà la Sabaudi di prima e la Sabaudi di dopo è proprio quel pugno, il pugno che Rufi dà al drago celeste e che effettivamente col senno di poi, con tutto quello che abbiamo letto all'interno del mondo di One Piece, anche alla luce secondo me del fantomatico ormai leggendario capitolo 1043, ti rendi davvero conto che Rufi, che dovrebbe essere un pirata che punta al One Piece, che punta a diventare re dei pirati, che punta quindi ad assumere la responsabilità, a mettere sulle sue spalle ecco la responsabilità del mondo della pirateria e quindi a diventare l'uomo nuovo, in realtà aveva da sempre e ha sempre avuto all'interno di sé qualcosa da dire. Colui che non riesce a star, l'abbiamo già detto, mille salse, ma colui che non riesce a starsene fermo con le mani in mano davanti a un'ingiustizia, davanti alla prevaricazione, davanti a quello che può essere un insulto personale, ideale, morale, a prescindere da quello che potrebbe o sarà la problematica, a prescindere da quello che sarà chiaramente il danno provocato, tutti quanti, no? Non appena mettono piede a Sabaudi, gli dicono mi raccomando se vedete delle cose strane con i draghi celesti fate finta di niente perché loro sono i padroni del mondo, voi siete delle cacchine e anche solo incrociare uno sguardo con un drago celeste potrebbe arrivare, potrebbe provocare una guerra e far arrivare immediatamente i marines con i rinforzi qui su Sabaudi. Manca un po' cazzo, quando l'uffi vede che il drago celeste ha sparato, poi tra le altre cose al povero, al povero, al povero Otto, Occi, Occi, Occian, è più bello, povero Occian, il povero il nostro polpo simpatico che poi teoricamente era pure un suo nemico ma la cosa bella di Rufi è questo, lui non riesce a rimanere nemico con le persone con cui si è scontrato perché il suo più grande potere è quello di farsi amici tutto e tutti. Io a questo punto arriverei pure a dire non mi stupirei se prima o poi vedremo anche in One Piece gente che Rufi ha sconfitto di nuovo essere dalla sua parte, se è successo con Crocodile perché non provare a ipotizzare che possa succedere anche con qualcuno di più alta caratura. Eppure quel momento è davvero un punto nodale fondamentale nella storia di Rufi che già aveva comunque sfidato poco prima il governo mondiale, aveva ordinato a Sogeking di bruciare la bandiera simbolo ecco dell'unione di quasi 200 nazioni e ti fa davvero capire che Rufi quando vuole non guarda in faccia a nessuno perché sì diventare re dei pirati, sì diventare il più grande capitano di sempre, sì trovare il One Piece ma non ha senso ecco, non ha senso diventare l'emblema di una generazione se non dai l'esempio. Il punto rimane quello e davanti a un'ingiustizia, davanti alla prevaricazione non si può, non si può rimanere fermi e la scena dove c'è il povero Hachan morto lì sulle scale tutto sanguinante con Rufi che si arrabbia e sfodera il pugno e imbruttisce letteralmente il drago celeste con la cosa secondo me ancora più meravigliosa tutta quella partizione della tavola dove Oda si sofferma sull'incredulità dei volti e degli astanti tra cui già ci fa vedere, col senno di poi è facile dirlo, un'occhiata di quello che avverrà con Trafalgar Law e Kid che non sanno se essere ammirati dal gesto di Rufi oppure se criticarlo. Con Kid che davvero rimane stupito e dice ma io sapevo che lui era pazzo, l'aveva detto prima, non pensavo che fosse folle fino a questo punto, Kid che lo che se la ridacchia, tutti gli astanti che sono basiti F4 perché mai nessuno, mai nessuno aveva osato mettere le mani, mai, su colui, su coloro che hanno creato l'organigramma del mondo. E per me quella splash page è incredibile, è incredibile dal punto di vista grafico, è incredibile dal punto di vista ideologico, è incredibile per tutto ciò che rappresenta. Forse quello è davvero ancora più e meglio di tanti momenti di One Piece quello che rappresenta pieno Rufi in quanto persona, in quanto personaggio, in quanto protagonista di una storia, che è una storia di pirati ma che in realtà con il senno di poi e con l'andare del tempo abbiamo visto ci racconta settimana dopo settimana, tassello dopo tassello, sempre un qualcosa di più. È come se Oda avesse impiegato 25 anni per dirci che sì, questa grande avventura alla scoperta del One Piece è naturalmente un qualcosa che è stata scritta per divertirci tutti ma anche per farci rendere conto che effettivamente il mondo lì fuori non è tutto rosa e fiori, c'è sempre qualcuno che vuole dominare su di te ed è giusto alle volte, a prescindere da ciò che accadrà, a prescindere dal male che succederà rimanere fermi, saldi e dire no. Non solo. D'accordo? Te ne devi andare a quel paese. Questo è quello che penso io di quel momento che rimane davvero uno dei top di tutto One Piece e per me è davvero anche solo quello uno dei momenti topici che renderebbero One Piece un fumetto meritevole di essere letto ma come al solito lascio la parola a voi, link, link, commenti sono a vostra disposizione, fatemelo sapere e ci vediamo per un prossimo appuntamento con le 100 cose su One Piece. Alla prossima, ciao!